Sto recuperando sempre di più, va sempre meglio, ovviamente ci sono delle tappe da seguire, dei protocolli, vorrei essere già capace di far tutto, ma non è così, è normale e quindi sta andando comunque sempre meglio. Giocatore esperto sì, per fortuna non giocatore esperto a livello di infortuni perché è il primo infortunio veramente importante della mia carriera e quindi da un lato sto riscoprendo, sto scoprendo delle cose che non ho mai vissuto prima e stare come si può vedere ore e ore e ore in una palestra chiusi senza il sole che siete tutti abbronzati, io meno, è impegnativo, è impegnativo perché vivi delle cose, la tua giornata, la tua routine è completamente diversa da quello che sei abituato o che ero abituato comunque a fare e quindi bisogna avere molta molta pazienza, è un lavoro meticoloso perché devi curare tantissime cose anche in questi casi e ovviamente anche a livello mentale è impegnativo perché ovviamente ci sono degli step che ti danno magari quella energia in più, allo stesso tempo magari ci sono delle giornate che devi un po' alzare il piede dell'acceleratore e cercare di modificare un po' il lavoro che fai. E quindi tutto ciò senza palla, senza un campo, senza altri 14 o 30 giocatori intorno a te e quindi è un'esperienza diversa anche questa, però sto cercando di mettere tutto me stesso dalla mattina alla sera e anche la notte se possibile per recuperare e quindi ci sto provando, grazie anche ovviamente allo staff della Nazionale per le linee guida, per i protocolli e ci proviamo.